Musica Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari in apertura, il bollettino epidemiologico della regione su 12.935 test per l'infezione da Covid-19 seguiti in Puglia, sono stati registrati oggi 1.525 casi positivi con un tasso di positività dell'11,8%, 11 decessi contro i 50 di ieri. Tra i nuovi infetti, 566 sono registrati in provincia di Bari. E per l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco, il nuovo aumento delle infezioni che si sta registrando in Puglia sarebbe il risultato dei contagi intrafamiliari del fine settimana di Pasqua. Si osserva in tutte le province pugliesi, spiega infatti l'epidemiologo, e si ripete in quasi tutte le regioni italiane. L'assessore poi conclude nella nota Non mi dite che non si fanno i tamponi e non si fa tracciamento. Se fosse vero, troveremmo meno positivi e l'incidenza sembrerebbe più bassa. E Bari perde un altro pezzo importante della sua storia, della storia del suo teatro. E' venuto a mancare la scorsa notte Giovanni Colaiemma, autore e regista e soprattutto fondatore del teatro Barium, con la compagnia teatrale Manifattura Tabacchi. Gianni Colaiemma aveva 62 anni, aveva contratto il virus a marzo. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi. Da Pasqua era entrato in coma farmacologico. L'ultima volta era andato in scena al Piccini vuoto con le telecamere del progetto palcoscenico. Vediamone lo stralcio. Il ricordo mio più bello col Piccini è stato un debutto strano, teatrale, senza volerlo. Questo è vero. Perché era il primo luglio del 1977 e io nasco come tecnico a due luci. Bello, bellissimo come mestiere. E quella sera, stranamente, col teatro era già stato tutto esaurito. Uno di uno, il capo comico della compagnia, che non farò mai assolutamente il suo nome, fugge con l'incasso della serata. E c'era una prima da affrontare. Mi chiesero proprio per favore di sostituirlo, perché come tecnico sapevo le parti di ognuno. Quello fu il debutto. Il titolo era Quei giorni del 43. Si chiamava Fasule Castagnaccio. E debuttai proprio qua. Stranamente, i miei mi vennero a vedere, ma non mi riconobbero, perché non sapevano nulla. Perché tutto fu deciso due ore prima. E alla fine i miei dissero Brav Kud che steva a fare la parte... Ve lo dico in maniera proprio familiare. E quando disse che ero io, non ci credevano. Però, vabbè, è andata così. E un messaggio di cordoglio per la scomparsa dell'attore barese Colayem arriva dal sindaco Antonio De Caro. Bari, spiega De Caro, piange la scomparsa di uno dei protagonisti del teatro popolare vernacolo barese. Gianni Colayem è stato un operatore culturale schietto e autentico, appassionato del suo lavoro. È stato autore e promotore di un genere teatrale particolare e identitario, apprezzato non solo a Bari. Ci mancherà la sua arte, ci mancherà il suo teatro, ci mancherà anche la sua verve polemica. Il mio abbraccio va alla sua famiglia, a cui voglio assicurare che, ricordo di Gianni, non lascerà mai i palcoscenici della nostra città. E voltiamo pagina. Nonostante tutta l'attenzione possibile, sono risultato positivo a un test Covid. Lo scrive su Facebook il sindaco di Trani a Mediobottaro, che assicura «sto bene, continuerò a portare avanti la mia attività amministrativa, seppur lontano dalle sedi istituzionali e fino alla negativizzazione». Isolato già da diverse ore, scrive ancora il sindaco, «ho fermato il tempo e ho ripercorso il film di questo anno assurdo». Non ci siamo arriesi, abbiamo continuato ad andare avanti a testa bassa nella consapevolezza che l'unico modo per sconfiggere questo terribile virus è il vaccino. I ritardi nella consegna dei vaccini per i medici di base e nel lab, le polemiche dei cittadini e subito dopo le risposte delle istituzioni in questo servizio di Maria Alessia Sforza. Da quanto tempo è qui in attesa? Dalle 9 di stamattina. Al bar tre persone no. Alla ASU per fare il vaccino invece 200. A chi ora avrebbe avuto l'appuntamento lei? 12 e mezza. Però hanno detto che i vaccini sono arrivati in ritardo. E quindi stanno chiamando per nome di dottore e siamo in attesa. E a che ora avrebbe avuto l'appuntamento? Alle 12 e mezza. Però è ancora qui? Sì. E non posso stare in piedi perché sono malato di Parkinson. È stato un ritardo nell'arrivo dei vaccini. Quindi erano prenotazioni fatte alle 11 e però sono arrivati tardi per cui c'è stato tutto un, ovviamente, lo slittamento di tutte le prenotazioni. Comunque ad aspettare sembra l'assemblamento. Non devono creare l'assemblamento. Devono fare delle cose decorose. Devono fare delle cose funzionali. Stiamo aspettando io e mia moglie che è disabile. Fortuna che ho trovato un posto. La macchina ce l'ho a due chilometri di distanza. Secondo weekend di vaccini negli spazi dedicati ai medici di medicina generale. Qui però a Iapigia sono arrivati in ritardo i vaccini? Sì, sono arrivati leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia perché ricordiamo l'avvantaggio di tutti. Abbiamo per fortuna ricevuto 5.850 dosi sulla base di una disposizione del generale Figliuolo di ieri sera a seguito di una sollecitazione del presidente Emiliano che ha rilevato che nell'ultima settimana in Puglia veramente sono stati fatti numeri davvero stratosferici. Tanto da farci giungere il risultato che ho rilevato questa mattina alla buon'ora, eravamo sesti a pari merito con il Piemonte in termini di percentuale di somministrazione rispetto alle dosi ricevute. Tante persone però sono in attesa giù davanti all'ingresso del lab vaccinale e sono slittati anche gli appuntamenti? Sì, purtroppo sono slittati in avanti di un paio d'ore per fortuna adesso c'è molta meno gente rispetto a un paio d'ore fa qui ci sono oltre 100 medici di medicina generale che insieme con i 150 medici del distretto hanno una poltrona e possono somministrare il vaccino ai loro pazienti sia fragili, sia caregiver, sia familiari aventi diritto. I numeri, quelli importanti e senza disagi organizzativi possono essere forniti dalla medicina generale che ha la possibilità e la capacità di accorciare i tempi anche di triage. Abbiamo aperto anche la Casa della Salute oltre a Iapigia e Via Fani con 8 postazioni vaccinali e comunque oggi in un giorno vacciniamo tante persone quanto ne abbiamo vaccinati in un weekend perché man mano che l'organizzazione viene messa a punto migliora la nostra capacità di produrre per cui nel corso della prossima settimana sempre che ci arrivino i vaccini da Roma potremmo vaccinare tantissimo. Il secondo weekend di vaccini negli spazi destinati ai medici di famiglia a raccontarci com'è andata questa mattina nel lab di Via Accaduti di Via Fani la dottoressa Maria Stella Bianco. Secondo weekend di vaccini negli spazi destinati ai medici di famiglia qual è la situazione oggi qui nel lab di Via Fani? Allora la situazione nel lab di Via Fani i vaccini sono arrivati con un po' di ritardo ci hanno fatto ritardare insomma nella tabella di marcia ci sono i medici in tre ambulatori e quindi diluiremo, prepareremo per tutto il poliambulatorio di Via Fani 336 dosi. Continuerete a vaccinare anche durante tutto il weekend? Allora in questo weekend una giornata soltanto è il secondo weekend di vaccinazioni per i medici di base nel distretto unico di Bari e quindi soltanto un giorno il sabato insomma oggi sabato e domani invece non ci sono vaccinazioni. E cambiamo ancora argomento il Parco della Giustizia di Bari è fuori dalle grandi opere del governo che ieri ha nominato 29 commissari per 57 opere escluso il progetto di edilizia giudiziaria del capoluogo pugliese. Il Parco della Giustizia di Bari mancano invece i luoghi della giustizia e in particolare il progetto del Parco della Giustizia di Bari per il quale viene indicato un commissario. La notizia arriva nella tarda serata di ieri dal sindaco Antonio De Caro che va su tutte le furie e parla di grave segno di disattenzione verso un'emergenza gravissima che pesa sullo sviluppo futuro di questa terra. Evidentemente la funzione giudiziaria non è tra le priorità del paese e tuona De Caro. Un altro duro colpo per l'edilizia giudiziaria barese che da anni vive in emergenza e attende ancora risposte dopo la dichiarazione di inagibilità del vecchio pala giustizia di via Nazarianze per rischio crollo nel 2018 e poi un mese di udienze celebrate in una tendopoli della protezione civile la giustizia penale trova casa nell'ex palazzo Telecom in via Dioguardi a Poggio Franco una soluzione di emergenza definita inadeguata mentre le altre funzioni giudiziarie sono svolte in altre cinque sedi tra Bari e provincia. Abbiamo accumulato protocolli dichiarazioni, studi di fattibilità tutto nella speranza di riuscire ad accelerare un'opera che serve a dare dignità ad un'intera comunità dichiara ancora il sindaco De Caro ma evidentemente non è bastato. Ed ora la nota della giunta distrettuale dell'ANM di Bari preso atto della mancata inclusione del Parco della Giustizia di Bari tra le opere per la realizzazione delle quali il Governo ha nominato 29 commissari e che nella fattispecie si tratta della nomina dei commissari individuati dal precedente Governo all'esito di un iter durato alcuni mesi sollecita il Ministero della Giustizia e l'intero Governo a includere la realizzazione del Parco nell'elenco delle opere per le quali nominare nel prossimo mese di giugno un commissario attesa l'evidente urgenza scusate di intervenire in maniera organica efficace e tempestiva per dare la giustizia barese luoghi e spazi in cui la stessa possa essere esercitata con dignità e efficienza come più volte sollecitato dai capi degli uffici giudiziari di Bari dal sindaco di Bari dagli organismi associati dalla magistratura e dalla avvocatura e siamo al calcio domenica di campionato per il Bari domani alle 15 a San Nicola la sfida contro il Palermo sentiamo in conferenza stampa le parole di Mister Carrera tutti possibili questo qua dobbiamo fare l'obiettivo è ancora è ancora lì è la portata non è che siamo usciti da tutto c'è ancora il grande obiettivo che tutti abbiamo che vogliamo dove vogliamo arrivare quindi dobbiamo andare in campo e dare battaglia fino alla morte dopo il calcio abbiamo lavorato abbiamo lavorato sui dettagli sulle situazioni dove sbagliamo per cercare di migliorare anche quando siamo in possesso palla quindi abbiamo lavorato in questa direzione per fare gruppo tra di noi perché tanti in campo andiamo noi quindi non va nessun altro noi dobbiamo essere forti a farsi scivolare tutto addosso perché il calcio è questo quindi dobbiamo cercare di riportare la gente a aver fiducia in noi ma questo si fa tramite le prestazioni e i risultati quindi il nostro obbligo è questo esame in chiusura come ti consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it radiobari.net tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari Il meteo è offerto da Ben ritrovati con le previsioni di Trebbi Meteo diamo uno sguardo alla giornata di domenica che sarà ancora caratterizzata da questa circolazione instabile fredda e in quota che determinerà ancora condizioni di spiccata variabilità a tratti instabile soprattutto sulle regioni centro-meridionali ma anche sul nord-est vediamo nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra all'Italia le prese con molte nuvole in particolare al centro-sud ma anche sulle regioni nord-orientali dove aumenterà la copertura nuvolosa vediamo la grafica dell'Italia che ci mostra appunto una giornata piuttosto instabile soprattutto sulle regioni meridionali ancora una volta sulla Sardegna con qualche acquazzone ma anche sul centro non mancheranno dei fenomeni tra Lazio, Abruzzo sulle zone interne appenniniche nonché tra Liguria pianura dell'Emilia Romagna e anche sui rilievi del nord-est quindi insomma una maggiore variabilità con clima sempre abbastanza frizzante per il periodo e massime che non andranno oltre i 15 gradi ma per ulteriori dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Il Meteo è offerto da GLA Industries Since 1965 we serve solutions